Il titolo del mio intervento riguarda le campagne di ricerca al santuario Taufeo e al Tiburos, che vanno dallo scavo, l'analisi e la valorizzazione del sito. Il progetto di scavi e ricerche congiunte dell'Istituto Nazionale des Tunis e dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma è volto al recupero del santuario Taufeo consacrato a Balamon, Saturno, individuato negli anni 2000 da Namil Callala ai margini settentrionali dell'antica città di El Tiburos, odierna Mdeina, un borgo della Tunisia centrale, 230 km a sud-ovest di Cartagine e 45 km a sud-est di El Kef, l'antica Sicca Veneria. Il sito è stato esplorato per la prima volta nel 1848 e identificato nel 1875 grazie ad un'iscrizione neopunica che cita Balamon di Altiburos, che si riferisce a CAI 159. Il progetto ha preso avvio nel 2007 con la firma di un accordo quadro tra l'INP e il CNR e si avvale il contributo del Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana. Il progetto prevede lo scavo, la pubblicazione e la valorizzazione del luogo sacro. La responsabilità scientifica dell'impresa è stata affidata per la parte tonisina al professor Nabil Callala e per la parte italiana al collega Sergio Ribicchini, fino al suo collocamento in pensione all'inizio del 2015, quando è stato sostituito in tale ruolo da chi vi parla. Come detto, l'area del santuario Toffet si trova a nord dell'insediamento romano, su un modesto risalto morfologico. Il settore occidentale dell'area indagata è delimitato da una marcata incisione fluviale, coccasionalmente attiva durante i periodi di pioggia. La litologia del sottosuolo è caratterizzata da alternanze di ghiaie e sabbie ed i tipici depositi alluvionali. Il substrato effiorante è principalmente di matrice limosa, con presenza di 18 risparsi di dimensioni variabili. Propedeutica allo scavo è stata la ricognizione avviata sul pianoro. Con l'aiuto e la collaborazione di Federica Candelato e Giuseppe Garbati, che vi parla, ha predisposto una quadrettatura del pianoro con quadrati di 5 metri di lato, nominati in ordine alfabetico secondo l'asse delle ordinate e in ordine numerico secondo l'asse delle ascisse. Sono stati realizzati 80 quadrati per un totale di 2.000 metri quadrati, sottopossi ad indagine. I dati salienti provenienti dalla ricognizione possono riassumersi nei seguenti punti. Concentrazione maggiore di materiale nel settore occidentale, quello in cui è ubicato il TOFET, e nel settore orientale, mentre al centro la concentrazione di materiale è minore. frequentazione del pianoro prevalentemente fra il II secolo a.C. e il II secolo d.C. e inoltre la presenza di edifici di dimensioni ragguardevoli sia nel settore orientale del pianoro sia immediatamente a sud, nel TOFET. A partire dal 2009 si è deciso di dividere la parte occidentale del pianoro denominata convenzionalmente zona A in due settori. La scelta è stata motivata dai risultati ottenuti nel corso delle campagne precedenti diretti da Damiqalmina Callala e Idogiano che hanno portato all'individuazione a sud del campo di urno e di strutture murarie che presentando un andamento est-ovest dividevano di fatto l'area indagata in due vaccini stratigrafici distinti, interessati comunque da continui lavori edilizi che testano la lunga vita dell'area sacra. Le operazioni di scavo e documentazione sono proseguite congiuntamente fra i colleghi tunisini e quelli italiani. Con riferimento alla parte italiana il settore settentrionale relativo al santuario TOFET è stato oggetto di indagine dall'allora Ischima, ora ISPC, mentre quello meridionale è stato indagato dal professor Fabio Fabiani che qui vediamo in una foto molto pensieroso dell'Università degli Studi di Pisa coadjuvato sul campo da Sarhan Sharif e Munir Torciani. I risultati preliminari di quest'ultimo scavo documentano un'intensa attività edilizia che si sviluppa a partire dalla fine del secondo inizio primo secolo avanti Cristo e prosegue senza soluzione di continuità in epoca romana, anche quando, nella prima metà del primo secolo d.C., il culto di Balamon è sostituito da quello di Saturno, come attesta l'argumentazione epigrafica. Riguardo allo scavo del TOFET, di cui potete apprezzare alcune foto panoramiche e ortefoto scattate alla fine della campagna del 2019, mi preme soprattutto sottolineare l'approccio multidisciplinare che ha visto coinvolti, sin dalle fasi iniziali, molti specialisti di diverse nazionalità. L'accordo, originalmente impostato da un amica all'Ale Sergio Ribicchini e successivamente sviluppato da chi vi parla per la parte italiana, prevede indagini a tutto campo con ricerche interdisciplinari coinvolgenti con l'archeologia, anche altre scienze dell'antichità, le tecnologie applicate ai medi culturali e la storia delle religioni, l'antropologia fisica e l'archeologia. Nei proponimenti dei responsabili, inoltre, lo scavo del TOFET e gli altiburos rappresenta un terreno ottimale sia per la ricerca di base, condotta in sinergia tra tunesini e italiani, sia per la formazione congiunta di giovani ricercatori dei due paesi, sia per la trasformazione della ricerca in servizio, al fine di un'organica valorizzazione del patrimonio culturale, di un'area nella quale lo sviluppo del turismo culturale pogge essenzialmente sul patrimonio archeologico. Ad arricchire le competenze presenti nell'INPE e nell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale concorrono varie altre istituzioni, in particolare l'Université Navaril, e l'Institut Superiore des Métiers des Quattro-Mains des Tunis, la Sapienza Università di Roma, l'Università degli Studi di Pisa, il Museo Prestorico e Tonografico Luigi Pigolini di Roma, ora Museo delle Civiltà, l'Università del Salento a Lecce, il Centro Monebert-Rox di Barcellona. Le attività al TOFET si sono avvalse nel corso del tempo di molti specialisti, fra i quali si ricordano Ligia Kelifi, per la classificazione delle urle, Sami Bentahar e Yamen Skaier, per lo studio della ceramica punica romana, Nufida Genenna, per l'analisi della ceramica numidica, i cui lavori si sono avvalsi del costante contributo di Manuela Buonadies e Martina Zilli, che hanno sistematicamente disegnato tutto il materiale recuperato negli scavi. Lo studio del contenuto delle urne è stato condotto per i resti animali da professori Jacopo De Grossi dell'Università del Salento. L'analisi iconografica delle stelle è oggetto di indagini da parte di Lamia Ben-Nabid e di Dambi Kallara, mentre le numerose iscrizioni presenti sulle stelle sono studiate da Paolo Ksella e Moham Taro. Nel progetto rientrano infine lo studio carpologico e condotto da Daniel Lopez Reyes e Francisco José Cantero Rodriguez dell'Università di Barcellona e quello sulle monete dalla professoressa Zacchia Lumba. Purtroppo non vi è tempo per illustrare in ritaglio l'operato di tutti gli specialisti indicati, ma vorrei rivolgere un pensiero particolare a Loretana Salvadei, l'Ori per gli amici, prematuramente scomparsa nel corso del 2013, con la quale ho avuto il piacere di collaborare sia in Sardegna, nella necropoli di Montesirai, sia ad Addibur. Allo stesso tempo vorrei ringraziare Claudio Cavazzuti, suo storico allievo, che si è reso disponibile per sistemare lo studio che Lory aveva condotto sui resti incinerati di Altiburos, con una nota iniziale in cui ricorda che, per una volta, è stato lui a rivedere il testo di lei e non viceversa, come sempre avvenuto nel corso della loro intensa collaborazione. La collaborazione avviata con Claudio Cavazzuti mi offre lo spunto per rimarcare come le difficoltà nelle attività di scavo d'Altiburro siano emerse ben prima dell'emergenza causata dal Covid-19. Le tristi vicende che hanno insanguinato la Tunisia e particolarmente l'attentato al Museo del Bardo del 18 marzo del 2015 hanno sconsigliato una lunga permanenza di una missione di scavo internazionale all'interno del Parco archeologico di Altiburos che dista poche decine di chilometri dal confine con l'Algeria. Per questo motivo, nel 2016 e nel 2017 sono state realizzate delle campagne di studio materiali soffrendo dai locali dell'INP a Cartagine, a Darshammia, presso il Teatro Romano. In tali locali, in previsione delle missioni di studio, sono state trasportate numerose casse di materiali per la gran parte pertinenti a materiale ceramico, ma anche austrologico, che hanno permesso di procedere nello studio delle trattazioni delle fasi di frequentazione del TOFET. Solo nel 2018 è stato possibile riprendere lo scavo del TOFET. Ai fini della conservazione e valorizzazione dell'aria, l'attività di scavo statigrafico è stata limitata a determinati settori che garantivano maggiore interno e quindi a una migliore comprensione delle varie fasi di vita dell'aria sacra. Grande attenzione è stata inoltre riservata alle fasi precedenti del TOFET che hanno evidenziato la presenza di un percorso principale di accesso al campo d'Urna. Ed è questo che vedete nell'immagine. Quest'ultimo attraversa un'ampia sezione dell'aria sacra da ovest ad est. la strutturazione e l'orientamento del percorso basolato sono stati riconosciuti grazie all'individuazione di una serie di elementi litici di grandi dimensioni posti di piatto visibili sulle stratigrafie esposte e sul fondo di alcune ciste litiche indagate nella campagna del 2010 e non ancora rimosse. L'importanza del percorso è inoltre confermata dalla sua larghezza che in alcuni punti supera il metro e dall'utilizzo di pietre di notevoli dimensioni lavorate in modo accurato. In un momento successivo alla messa in opera del sentiero sono state impostate una serie di ciste litiche che li si addossano e sovrappongono defunzionalizzandolo. In seguito a tali trasformazioni si può ragionevolmente supporre che la frequentazione di questo settore del Toffet sia avvenuto utilizzando percorsi alternativi di minore visibilità archeologica. In via teorica si può ipotizzare una strutturazione di passaggi ortogonali all'asse principale posizionati tra gli allenamenti di ciste litiche e realizzati con un battuto permanentale del quale si conserva ancora sporadici lacerti che a caso del forte del grado risultano però di difficile individuazione. L'esplorazione delle strutture sopraesaminate ha permesso di evidenziare una fase di particolare fermento dell'attività edilizia all'interno del santuario durante la quale il Toffet viene dotato sul lato occidentale il più impervio di un muro di contenimento e di un ampio e comodo percorso basolato dal quale si doveva diramare molto verosimilmente una rete secondaria di sentieri di più modeste entità in grado di raggiungere però tutte le deposizioni del campo d'urne comprese quelle più isolate e periferiche proporre una cronologia per l'impianto e la successiva defunzionalizzazione delle attività sopradescritte non è facile in effetti le numerose fosse di spogliazione di epoca antica e moderna interrompono in più settori la continuità degli strati imponendo cautela nelle corrispondenze e nelle relazioni stratigrafiche tra i vari settori del santuario quando possibile si è cercato di ricostruire il passaggio del santuario e la sua il paesaggio del santuario e la sua diacronia procedendo dalle attività più recenti si distinguono inizialmente le spogliazioni e l'ultimo periodo di frequentazione dell'area sacra inoltre almeno quattro fasi di strutturazione delle posizioni e accrescimenti dei livelli del santuario quindi l'impostazione del muro di contenimento del percorso basolato e infine alcune evidenze precedenti a questo impianto il materiale ceramico diagnostico risulta purtroppo alquanto limitato non potendo rientrare in esso le numerose urne rinvenute all'interno delle cisteritiche che essendo in ceramica comune presentano una vita molto lunga e quindi poco indicativa per la datazione delle differenti fasi di vita del santuario fortunatamente grazie all'individuazione di un numero seppur limitato di frammenti ceramici diagnostici riconducibili per corrispondenza stratigrafica alla fase monumentale sopradescritta è possibile proporre una fruizione delle strutture di accesso e di viabilità interna del santuario ancora alla fine del primo secolo avanti Cristo ad una fase immediatamente successiva è possibile riportare la funzionalizzazione di una parte consistente del basolato costruito da deposizioni che hanno definitivamente obliterato il percorso originario a partire dalla campagna del 2019 tutto lo scavo del santuario Toffet di Altiburos viene documentato con la fotogrammetria ogni singolo contesto è quindi ricostruibile a posteriore grazie alla sovrapposizione degli snapshot tridimensionali inoltre come potete vedere dal video che sta girando l'intera superficie indagata è stata rilevata fotogrammetricamente questo snapshot tridimensionale ci fornisce una visione complessiva del Toffet alle chiusure delle indagini del 2019 è stato realizzato combinando delle riprese aeree con astra telescopica a due metri di altezza con una battuta fotogrammetrica da terra le immagini sono state elaborate con il software Agishoff Metasherp Pro e agganciata a una maglia georeferita con caposal da terra di due metri per due metri realizzata con stazione totale laica si tratta indubbiamente soltanto di un primo passo verso la fruibilità e la valorizzazione dell'area di indagine che ci auguriamo culminerà nella realizzazione di una restituzione virtuale delle varie fasi di vita del Toffet e questi sono i dati che fino ad oggi siamo riusciti a reperire le indagini proseguiranno spero nei prossimi anni con grande impegno e soprattutto grazie alla possibilità di estendere le indagini del settore monumentale quello romano diretto dal professor Fabio Fabiani dell'università di Pisa che si verrà per quanto riguarda la restituzione geofisica della collaborazione dell'ISPC nella figura di Salvatore Piro grazie a tutti per l'attenzione grazie